Scaggionati per non aver commesso il fatto. E' questo l'esito a sorpresa della sentenza pronunciata ieri pomeriggio dalla Corte d'Appello di Messina che ha assolto Carmelo Bisognano, ritenuto per anni il referente del clan mafioso dei barcelonesi per il territorio di Mazzarra Sant'Andrea ed oggi collaboratore di giustizia, e per il boss Carmelo D'Amico detenuto al 41 bis. Il verdetto è stato emesso alla fine di una tranche del processo d'appello dell'operazione Sistema che nacque dalle dichiarazioni dell'architetto Maurizio Sebastiano Marchetta che ha raccontato di aver pagato per lungo tempo il pizzo alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, chiamando in causa tra gli altri anche Bisognano e D'Amico. In primo grado, in abbreviato, D'Amico fu condannato a 10 anni e 8 mesi e Bisognano a 7 anni e 10 mesi. E' logico che adesso bisognerà attendere le motivazioni per un esatto quadro di lettura della sentenza che ribalta quella di primo grado, ma appare già evidente come la Corte non abbia creduto alle accuse dell'architetto Marchetta. Aspetto evidenziato in particolare da Sonia Alfano, presidente della Commissione Antimafia Europea, secondo cui con l'assoluzione in appello degli imputati del processo sistema emerge finalmente la vera natura delle dichiarazioni mendaci di Maurizio Marchetta. Adesso, conclude l'Alfano, una certa stampa smetta di definirlo testimone di giustizia, non lo è mai stato e a quanto pare mai potrà esserlo. Il teorema ideato da Marchetta, conclude l'Alfano, attualmente scortato dalla polizia per ragioni sconosciute e quindi incomprensibili, è rovinosamente crollato con la sentenza d'appello.